cari amici di ellas live ci troviamo all'interno dell'hotel salgetti perché volevo farvi vedere delle foto inedite di un giocatore che da pochi giorni veste la maglia giallo blu ed eccolo qui l'avete riconosciuto stagione 2000 questo è un giovanissimo Antonio Cassano come potete vedere tra gli ex giallo blu troviamo anche Lorenzo Sibilano eccolo qui l'ex allenatore Eugenio Fascetti e l'ex centrocampista eccolo qui Antonio Bellavista qui all'hotel Salgetti per quasi 20 anni il bari della famiglia Bantarese ha usato questo hotel come punto di riferimento guardate qui qua siamo stagione 2002 un retro ex giallo blu eccolo qui il portiere Graziano Battistini qua con Bellavista con il cappello ancora più lungo guardate un po' anche qui il giovanissimo Zambrotta veramente un tuffone passato e chiudiamo con un altro Antonio Cassano stagione 99 a chiudiamo con un po' anche qui il ha 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 ha